Per inserire e gestire pulsanti e link all'interno del tuo sito, accedi a Supersite. Clicca l'icona Aggiungi una sezione qui, presente sul bordo superiore ed inferiore di ogni sezione già inserita, in modo da scegliere la posizione che intendi assegnare all'elemento. Dall'elenco degli elementi a sinistra, seleziona la voce Testo. Scegli la combinazione più adatta alle tue necessità. L'elemento di testo è così inserito all'interno della pagina. Per personalizzarlo, cliccaci sopra ed esegui le modifiche necessarie. Per maggiori specifiche su come modificare l'aspetto del testo, ti consigliamo di consultare il tutorial dedicato. Una volta che hai definito la formatazione del testo, seleziona la parola o la frase che devono rimandare al collegamento e poi clicca sull'icona indicata. Specifica il link verso cui intendi reindirizzare l'utente. Il link non deve essere necessariamente un URL, ma può essere indicato anche un indirizzo e-mail o un numero di telefono. Abilita il checkbox indicato se vuoi fare aprire il collegamento in una nuova finestra. Infine, clicca Fatto per salvare i dati. Il collegamento è creato e appare come sottolineato. È realizzato. Grazie a tutti